Bentornati sul mio canale ragazzi, oggi mi è arrivata la targa YouTube per i 100.000 iscritti. Voi sapete che YouTube quando arrivi a 100.000 iscritti ti dà una targa e adesso la vedremo insieme ragazzi. Ora io non sono uno, molti di voi mi conoscono, non sono uno che ama troppo le feste, sono più riservato anche se sul canale sono molto espansivo, però questa targa come i 100.000 iscritti io la voglio dedicare a voi ragazzi, perché voi siete i 100.000 iscritti e ho pensato di farvi un altro regalo che spero che vi piaccia. Avete visto che al raggiungimento proprio all'orologio, pam, dai 100.000? Ho realizzato questo video che è piaciuto a tantissimi, a decine di migliaia di voi e lo evidenziate come sempre attraverso i commenti. Ebbene la batteria a sabbia è il video che ho realizzato. Ci vorrà chiaramente un po' di tempo, non si può fare in un attimo, e quindi ecco che vi chiedo la vostra pazienza. Ma come sapete tutti i video vengono sempre realizzati, tutti i progetti vengono realizzati su questo canale. Alcuni di voi mi hanno scritto, ma Gianni l'Elerix, il 12 volt, il piombo, i van, continuano ovviamente, no? Questo canale non si chiama batteria a sabbia, questo canale è energia fai da te e copre, vuole coprire tutto lo scibile della conoscenza sull'energia alternativa. Ora ragazzi, a 100.000 ho pensato di fare una cosa per divulgare ancora più prepotentemente la cultura e spero piaccia soprattutto a tutti gli iscritti che ci sono su questo canale e che sono professori di scuola e allievi. Ebbene, adesso voglio farvi vedere la targa, qui c'è un... e dopo entriamo nel vivo di quello che ho pensato. Questo è un biglietto che dice nel caso si sia danneggiata per il trasporto, contattaci, può succedere. Una sua spugna di protezione. E poi la lettera che YouTube mi dedica sul cartoncino. E molto bella, tutta scritta in inglese, quindi ovviamente io ve la strasintetizzo. Perché inizia proprio dicendo Do you remember your first subscriber? Ti ricordi il tuo primo iscritto? Ebbene ragazzi, io me lo ricordo. Il primo iscritto è un caro amico che si chiama Andrea. Sicuramente sta guardando questo video e penso che mi telefonerà. Ebbene, quando aprì il canale, anni fa, io gli dissi guarda che ho aperto un canale YouTube. Lui mi disse distinto, voglio essere il primo iscritto. E lo fece. Ebbene, questo ricordo rimane. Quindi grazie Andrea, sei il primo iscritto a questo canale. E ringrazio tutti gli altri centomila. La lettera continua dicendo Ti ricordi i tuoi primi cento? Ti ricordi i tuoi primi mille? Bene, oggi sei arrivato a centomila. Ci sei arrivato perché ti hanno guardato attraverso la ricerca di YouTube. Hanno imparato che tu esisti attraverso degli amici. Ebbene, noi siamo orgogliosi e onorati di darti questa milestone, questa pietra miliare al raggiungimento dei centomila iscritti. Bene. Ragazzi, poi c'è tutto il resto che dice Continua così e ti aspettiamo al milione di iscritti. È tanta roba, ragazzi. Però, l'ho detto prima, lo ripeto adesso. È merito vostro, ragazzi. Questa è la targa che ci farà compagnia. Pesa anche. Metallica. Ed è una soddisfazione, ragazzi. C'è scritto qua Presented by Energia Fai Da Te For Passing 100.000 Subscribers YouTube. Energia Fai Da Te Per aver raggiunto i centomila iscritti. Un chilo. Ragazzi, grandi soddisfazioni. Adesso è il tempo di scrivervi per chi ancora non l'ha fatto. E fra quattro secondi voglio spiegarvi qual è il regalo che voglio fare a tutti voi in occasione di questo traguardo. Buona visione. Buona visione. Ebbene, questo video, come ho detto all'inizio, è dedicato a tutti i professori delle scuole medie e dei primi anni delle superiori. Ebbene, cosa voglio fare? Grazie anche al vostro aiuto voglio trasmettere attraverso le LIM, le lavagne elettroniche che ci sono nelle classi quella che è la cultura dell'energia alternativa. Voi sapete che qua si toccano tante argomentazioni dalla transizione energetica al fotovoltaico, all'eolico. Ebbene, perché non dire ai nostri cari ragazzi, ai giovani che esiste un mondo che non è solo quello consumistico ma è quello della cultura personale legata all'energia? Ebbene, cari professori d'Italia e non solo se avete il piacere potete contattarmi su Messenger per avere delle lezioni all'interno delle vostre classi. Questa è una cosa che non vi ho mai detto nel canale ma già lo faccio per un altro argomento che non è questo dell'energia alternativa. Vabbene, come funziona? Primo aspetto fondamentale è tutto gratuito non mi dovete assolutamente pagare. Ebbene, attraverso Zoom o le piattaforme che ci sono su Google quindi da Meet piuttosto che quelle che preferite voi possiamo connetterci in diretta attraverso il computer e io risponderò alle domande che hanno i giovani sull'energia alternativa e darò anche sensibilizzazione su quello che è il mondo intorno a noi su come rispettare la natura attraverso piccoli gesti quotidiani. Sarà un vero e proprio corso sull'energia alternativa che farò gratuitamente nelle vostre scuole non in presenza ma attraverso i sistemi elettronici quindi le videoconferenze. Spero sia una cosa che vi piaccia è una cosa che ci tenevo e ho pianificato e volevo regalarvi proprio il raggiungimento dei 100.000 iscritti. Avete visto che su questo canale non dico mai nulla prima per arrivare a uno scopo ma quando si arriva a questo scopo ebbene la cosa bella è poterlo dire siamo arrivati tutti a 100.000 iscritti li abbiamo ampiamente superati ebbene adesso voglio insegnare nelle vostre classi. Contattatemi su Messenger trovate il mio indirizzo Messenger sulla home page del canale o se volete farlo anche tramite mail chiaramente anche lì come tutti i miei video e come tutti gli altri iscritti dovrete avere pazienza perché non posso farlo quotidianamente e quindi andrò a pianificare i periodi in cui potrò essere presente attraverso le videoconferenze nelle vostre classi. È un'iniziativa che lascerà alcuni ansimanti Gianni perché non ci sei io ti avevo prenotato e ci vuole qui ci vuole organizzazione e pazienza perché ovviamente ho le mie cose da fare i miei video da fare però questo lo faccio veramente veramente volentieri. Mettete insieme anche delle classi radunatevi nelle palestre una situazione che quanto più si divulga tanto più andiamo verso la coscienza energetica che significa mille cose. Ebbene ragazzi spero che questo video corto vi sia piaciuto abbiamo festeggiato insieme il raggiungimento dei 100.000 grazie a voi tutti iscritti continuate così e come dico sempre tante sorprese ci aspettano e come vedete non manco mai. Quindi grandi realizzazioni su tutto il profilo andate ecco anche una piccola spiegazione di come funziona il canale ci sono le playlist che contengono la 12 volt la 48 volt il mega impianto l'energia eolica adesso c'è la batteria a sabbia lì nelle playlist trovate in fila tutti i video che ho realizzato e che continuerò a realizzare per ogni playlist ebbene ragazzi io rispondo l'avete visto tutti i messaggi che arrivano sul canale riesco poco a rispondere a quelli su messenger perché non per una questione di tempo ma perché voglio che la divulgazione della cultura sia totale ecco perché prediligo e preferisco che scriviate sotto i commenti nel canale è molto facile ogni video sotto i commenti cliccate lì e avete la possibilità di scrivere il vostro commento seguite sempre gli algoritmi di youtube perché se non vedete il vostro commento presente sul canale è perché avete detto qualcosa che è stata filtrata dagli algoritmi io non ho possibilità di capire ebbene i corsi che farò nelle vostre scuole attraverso queste lavagne elettroniche questi mega video che avete all'interno delle classi saranno lo ripeto completamente gratuiti non c'entra niente con le donazioni che fate costantemente attraverso paypal sul canale e delle quali vi ringrazio io sarò presente nelle vostre classi risponderò alle domande dei ragazzi che hanno sviluppato nella loro cultura da giovani oppure susciterò io delle tematiche che sono molto interessanti la mission è sempre quella salvare il nostro pianeta partendo dal nostro metro quadro quindi piccoli gesti quotidiani che i giovani possono fare e cultura sull'energia alternativa affinché ci sia questa sensibilizzazione ragazzi questo è un video veramente corto spero che la cosa vi sia piaciuta soprattutto a voi professori contattatemi e iscrivetevi a questo canale se è vostro piacere ci vediamo al prossimo video buonasera grazie a tutti grazie a tutti